Allora buongiorno e ben ritrovati, apriamo questo nuovo appuntamento con l'anticiclone che ancora domina sul bacino del Mediterraneo, questa è la fotografia del mese di gennaio, un mese di gennaio caratterizzato proprio da questo promontorio anticiclonico subtropicale che ha al centro la sua massima espressione sulla Nordafrica ma estende la sua influenza a gran parte dell'Europa meridionale, soprattutto quella mediterranea, è proprio qui che in sostanza si vedono i maggiori effetti con una situazione stabile e soleggiata laddove non sono presenti nebbie e nubi basse ma soprattutto la mancanza di precipitazione, è una situazione che perdura almeno da due settimane, tenderà ancora ad essere presente nel corso di questi prossimi giorni e quando questo anticiclone subtropicale subirà una nuova intensificazione a causa dell'arrivo di un nuovo pacchetto di energia e anche dell'area più umide che tenderà a rafforzare questo baluardo anticiclonico. Una situazione che sta apportando dunque una continuità sul fronte della siccità su molte nazioni che si affacciano sul bacino del Mediterraneo, in particolare sulla Spagna meridionale, l'Algeria, la Tunisia e anche sulle regioni nostre italiane, in particolare sulle isole maggiori, segnatamente la Sicilia e anche la Calabria, ma anche la Puglia risente di una situazione siccitosa. Ora, se noi ripercorriamo cosa è successo anche lo scorso anno, notiamo come anche lo scorso anno, tutto lo scorso anno, è stato dominato da un campo di alte pressioni. Questo non è che vuol dire che c'è stato sempre l'alta pressione, però mediamente ha dominato un'anomalia di geopotenziale positiva sull'Europa meridionale, segnatamente sulla Spagna ed è stata appunto la caratteristica anche del 2023, ma anche del 2022. Quindi notate come gli anticicloni sono stati ben presenti sull'Europa meridionale, soprattutto negli ultimi anni e questo ovviamente ha generato tutta una serie di effetti sul fronte delle precipitazioni, quindi poca pioggia, anche poca neve e quindi se noi ripercorriamo a ritroso possiamo notare appunto questa tendenza ad avere una maggiore frequenza degli anticicloni sul bacino del Mediterraneo. Adesso ci aspettiamo, bisogna vedere un pochettino se ci sono delle modifiche sulla circolazione. Ecco, intanto la mappa successiva mostra come il gennaio del 2023 è un nuovo mese di record, di caldo record a livello globale, è il nono mese consecutivo di caldo record a livello globale, quindi temperature sopra la media a livello globale. Il gennaio del 2023 supera il 2023, il gennaio del 2023 anche con ampio margine e supera anche il gennaio del 2016 che era quello più caldo di sempre. Quindi il gennaio del 2024 si preannuncia, perché ancora sono dati preliminali su un set di data, dati GERA 55, in sostanza si preannuncia essere il più caldo di sempre. Poi nel corso delle prossimi giorni, quando avremo anche gli altri set di dati, però è molto probabile che ci sia questa ufficialità di questa situazione del 2024. Quindi si aggiunge un nuovo mese, si aggiungerebbe un nuovo mese di caldo, tra virgolette caldo record a livello globale. Ricordiamo che a livello globale non vuol dire che non ci sono zone dove non ha fatto freddo, in realtà la Scandinavia, vedete come anche la parte settentrionale degli Stati Uniti e del Canada ha fatto freddo, ci sono state situazioni negative nel globo, però la media, perché stiamo parlando di livello medio, supera, diciamo che le numeri di caldo superano nettamente quello di freddo e di conseguenza gennaio nella sua totalità è un nuovo mese da caldo, caldo sempre tra virgolette record, quindi temperature che sono al di sopra della media tipica del periodo. Anche gli oceani, perché sono influenzati anche dal calore del nigno, che raggiungerà, noi abbiamo visto che ha raggiunto il picco proprio nel corso del mese da dicembre e gennaio, e adesso incomincia il suo declino, però ovviamente sarà ancora forzante a livello globale, sulle temperature globali, perché si raggiungerà proprio in questo periodo la maggiore espressione del nigno, però il nigno continuerà ad avere la sua influenza sui pattern meteorologici a livello globale anche nel corso dei prossimi mesi. Poi c'è anche la buona possibilità che durante il periodo di estivi, dei mesi estivi, ci possa essere questa transizione verso la nigna, che abbiamo visto essere stata una delle artefici probabilmente nel 2023 in termini di questo picco di caldo record del 2023, soprattutto i tre anni della nigna che hanno accumulato grande parte del calore e subito soppiantato questi tre anni della nigna dal passaggio al nigno. E una delle ipotesi, le altre sono in fase di valutazione, tra cui anche ovviamente il CO2, ma ci sono anche altre variabili interne che hanno potuto remare a favore di questo 2023 del record, ma la scienza apre la possibilità che ci sono anche altre dinamiche legate per esempio al vulcano Tonga, che abbia potuto influire su questo 2023 eccezionale, soprattutto per il suo anno da caldo record e anche perché ha distanziato il record precedente anche con ampio margine. Su questo poi ci torneremo con un ampio degli approfondimenti. Dunque c'è questa situazione, però c'è anche area di cambiamento, l'avevamo visto nelle volte scorse, perché tende ad abbassarsi il flusso perturbato atlantico e dunque c'è la tendenza ad avere un cambiamento delle condizioni del tempo molto probabile a partire dalle 10 di febbraio. Queste sono le anomalie di precipitazione proprio tra il 5 e il 12 febbraio. si vede la tendenza ad avere un abbassamento del treno di perturbazione più verso sud e nella settimana successiva la tendenza ad avere anche il Mediterraneo popolato dal verde, che sarebbero le anomalie positive di precipitazione, ma anche su gran parte dell'Europa. Quindi stando alle ultime indicazioni dei modelli numerici, ci sarebbe questo cambio di circolazione atteso, derivava da forse anche a lunga scala, che avrebbero portato questa tendenza anche alle perturbazioni di raggiungere il bacino del Mediterraneo, quindi alleviando anche quella situazione siccitosa che sta attanagliando gran parte d'Italia, ma soprattutto, come dicevamo prima, diverse nazioni dell'Europa Mediterranea, tra cui la Spagna, il Nord Africa, le regioni meridionali e la Grecia, che fino a questo momento, soprattutto nel periodo di gennaio, hanno visto poche piogge e anche nevicate, infatti con un anticiclone possente in quella maniera è molto difficile vedere una situazione invernale in termini di pioggia e neve, discorso diverso invece laddove hanno gravato le nebbie, le nuvi basse, che hanno mantenuto questa parvenza d'inverno. Si abbassa dunque il flusso perturbato, l'anticiclone si sposta secondo questo tipo di dinamica e poi tende ad essere il bacino Mediterraneo, ma soprattutto l'Europa, essere caratterizzata da questa saccatura che andrebbe a condizionare nella seconda decada di febbraio il tempo sul bacino del Mediterraneo e su gran parte dell'Europa centro-meridionale. Notate lo spostamento degli anticicloni sul Nord Atlantico, secondo quello che viene chiamato tecnicamente un Atlantic Ridge, o quindi un ridge anticiclonico in Atlantico, e da qui questa saccatura che sprofonderebbe sull'Europa meridionale, riportando pioggia e anche probabilmente delle nevicate. Su quanto freddo entrerà non entriamo nel merito, perché è ancora un po' prematuro dirlo, quindi è difficile anche parlare di nevicate a quote basse, perché ancora è impossibile definirlo ancora tutta questa cosa, perché ovviamente stiamo parlando di dinamiche fra dieci giorni, quindi ancora c'è un tempo abbastanza lungo da poter effettuare questi tipi di dettagli, che poi è quello che vorrebbero sapere effettivamente gli amanti del freddo e della neve. Tutto sommato possiamo dire, almeno per il momento possiamo dire, con una certa buona possibilità di realizzazione, che questo pattern sia abbastanza sicuro, che possa attuarsi, con un grado di confidenza, possiamo dire medio-alto. Quindi ancora necessitiamo di conferme, ovviamente è l'ultimo momento, perché ovviamente la distanza è ancora lunga, però quello che possiamo vedere è almeno una fase più movimentata di quella attuale, e quindi ci sono buone possibilità che questi anticicloni levano le tende dal bacino del Mediterraneo. Poi il modello, volendo un pochettino filosofare sul lungo termine, notiamo come il modello mostra la tendenza ad avere anticicloni molto più spostati a nord, delle latitudine, quindi questo canale depressionario che si aprirebbe sull'Europa meridionale, quindi segno di una dinamicità, possiamo dire, responsabile di precipitazione. Ovviamente questo è ancora, il grado di timidità è piuttosto basso. Tuttavia questo sarebbe anche coerente con le stagionali, perché se vi ricordate le previsioni stagionali mostravano una prima parte zonale, in realtà non si è andato molto distante da quanto i modelli prospettavano nella prima parte di stagione, e una seconda parte con delle dinamiche molto più bloccate, perché avrebbe agito una interferenza costruttiva tra il ligno e le onde atmosferiche, di conseguenza si sarebbe proposta una situazione dedita ad anticicloni spostati sul nord ottantico o addirittura sulla Groenlandia. Poi è tutto da verificare, ci ritorneremo nei prossimi appuntamenti. Modello europeo, attraverso il sito Meteosiel, ci mostra la tendenza dell'anticiclone a levare le tende, quindi arrivano queste saccature e portano appunto queste precipitazioni, dovrebbero portare queste precipitazioni sul bacino di Mediterraneo, quindi dovremmo andare incontro ad una nuova fase diversa rispetto a quella attuale. Poi sul lungo termine in sostanza i regimi tendono a puntare tutti su una, nello spazio delle fasi, su verso una navo negativa, tuttavia vedete che, o meglio, non c'è la tendenza ad avere, possiamo dire, una possibilità di avere sul navo positivo, che è quella che sta attualmente interessando l'Europa meridionale, e quindi avremmo, i regimi confermano appunto questa tendenza ad avere un nuovo tipo di assetto circolatorio, anche sul lungo periodo. Infine, parliamo un attimo della stratosfera, perché questa è anche una cosa interessante, vortice polare che tende ad indebolirsi, in prospettiva, dopo questo rialzo, il verde tende a mostrare i membri del modello GEFS verso un calo del vortice polare stratosferico a 10 HPA, quindi il vento zonale medio tende ad abbassarsi e addirittura a invertire. Questa inversione l'abbiamo vista anche prospettarsi nelle volte scorse, ci andiamo con i piedi di piombo, anche in questo caso, circa l'eventuale tipo di dinamica che i modelli mostrano con questa inversione, che non è detto che sia proprio da split, ma può essere anche un forte indebolimento dovuto ad altre dinamiche, tuttavia c'è da considerare questa inversione del vento zonale medio, questo indebolimento abbastanza accentuato del vento zonale medio e questo sarebbe conseguenza appunto dell'azione bloccanti della troposfera, perché la stratosfera in sostanza non fa altro che rispondere ai forcing dettati dalla circolazione troposferica attraverso il trasporto di quantità di moto e di calore attraverso le onde di Rosby. Nel sito di Startable Service ci sono diversi utili tool, strumenti che possono diagnosticare con una certa bontà, possiamo dire, anche qualitativa questo tipo di andamento attraverso gli epiflux che è un modo di vedere in sostanza come la circolazione zonale, il vento zonale scambia energia con la componente non zonale o eddi. Quando i vettori puntano verso la destra, quindi verso il polo, c'è la tendenza ad avere una convergenza di questi flussi di calore di momento verso le attitudini polari, ma l'epiflux è legato anche al vento medio secondo una certa equazione della dinamica atmosferica e quindi quando il vento e l'epiflux è convergente al polo il vento zonale medio tende ad abbassarsi infatti viene visto un abbassamento del vento zonale medio stratosferico proprio per questa dinamica di trasferimento di calore e di momento attraverso queste onde di rosby che tendono a infrangersi in stratosfera e non a riflettersi come sta avvenendo in quest'ultimo periodo quindi queste onde di rosby non fanno altro che trasferire quantità di moto e calore nella stratosfera quindi tendono in pratica ad indebolire il vento zonale medio che è quello appunto che vediamo ovviamente questo da solo non ci dà una grande possiamo dire utilità da un punto di vista prognostico ci dà una diagnosi di quello che potrebbe avvenire lungo la verticale stratosferica però ci può anche dare delle indicazioni sul fatto che c'è questo indebolimento del vortice polare però notate anche come il vortice polare sempre attraverso il sito di Satbo Serve assume la forma a pantalone ancora una volta quindi una sorta di disturbo che è più accentuato nella media bassa stratosfera quindi è un forcing che parte dal basso ma non riesce a dividere tutto il vortice polare perché a 10 HPA rimane molto più coeso quindi c'è una formula allungata possiamo dire in alta stratosfera a causa del fatto che è più forte il vortice polare stratosferico mentre si mostra una tendenza ad avere le gambette tipica dei pantaloni del vortice polare stratosferico a pantalone o trusere come viene chiamato in Inghilterra che è una dinamica che è una sorta di via di mezzo tra un displasemente e uno split quindi una forma ibrida che abbiamo già visto nelle volte scorse ovviamente su questo poi aspetto ci ritorneremo anche su che cosa voglio dire quali impatti avrà questa situazione sulle onde troposferiche non mi resta che salutarvi darvi appuntamento alla prossima occasione per qualunque chiarimento cose non chiare scriveteci risponderemo quanto prima i vostri messaggi e anche i vostri utili consigli che ovviamente stiamo tenendo in considerazione e vi auguro un buon fine settimana grazie a tutti